Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, tratto chiuso per lavori di manutenzione tra BV1 Variante Aglio verso Firenze fino alle 18 di questo pomeriggio. Entrata consigliata verso Firenze, uscita consigliata provenendo da Bologna, Badia su variante di Valico. Per la mobilità a coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare resta coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Infipili e rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci ancora una volta in direzione del capoluogo. Per le statali su raccordo Siana-Firenze restringimenti per cantieri tra Poggi Bonzi e Colle Valdelsa Nord in direzione di Siena. Ultima pagina per il traffico ferroviario. La circolazione è interrotta tra le stazioni di Firenze Castello e la località di San Piera a Sieve sulla Firenze Bologna. Alta velocità per la presenza di persone estranei lungo la linea ferroviaria. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon piaggio!